Non so ragazzi, secondo me qual è il più bel video su youtube che è uscito? Murloc e bestie H, Jandice Qua dipende di tutto se troviamo il token oppure no Token Yes, finalmente Gesui Avedragon Gesui Avedragon Cavolo, non potrà andare sempre storta Ogni volta giochiamo Jandice e non c'è il token Posso provare a fare sta giocata? Posso provare a fare sta giocata che dici? Perché Comunque ci sta il morto Quindi ci sta gridare Questa lobby Questo ragazzo ha preso i Sharaj e ha quitato Ha detto non voglio giocare i Sharaj Possiamo capirlo no? Questo video si è scordato di fare i low power Ma che lobby siamo finiti? Mantieni la pressione Quindi lo teniamo in mano, seriamente Proviamo Doppia, tripla al cinque Ci sono anche gli elemental Quindi ci può stare Abbiamo doppio il chef No, mi abbiamo vinto Ok Sperimentiamo ragazzi Sperimentiamo Mi sa che ho buttato 10.000 limoni Mi sa che li hai donati a tutti gli altri Cattivone Vediamo Vediamo Non è detta l'ultima parola Non è detta l'ultima parola Adesso ci becchiamo sette danni Che non sono pochi Per il turno tre Beh, ecco il morto Livello Ci può stare Vendo due, tre, tre, due Sì E non gioco niente Perché potrei trovare Khadgar Non posso trovare Khadgar, Timothy Sono contro il morto Che non è un pezzo Ci sta, secondo me Siamo un pochino più forti Facendo questo place Come il turno dopo Troviamo Khadgar È un delirio poi Sono tre, tripla Sei C'è al cinque Al turno sei Continua così Forza Ma cosa minca sia Per comprare Per comprare un Demon in Doom Livelliamo Contro il morto Dai Adesso prendiamo un po' di tu Un po' di danni in più Capita a tutti ogni tanto E Roll Che sto shop è pessimo Se trovo un Khadgar Cambia niente Quindi gioco questo qua Turno dopo Level up Swappo il gatto Vendo Questo Turno dopo level up Gioco il gatto soriano Swappo il gatto Lo rigioco Altra tripla Eccetera Però almeno adesso Abbiamo preso il draghetto Cioè alla fine abbiamo preso Un draghetto Avremmo Altrimenti avuto Un altro pezzo a due Un Demone a due Uno in più Così si attiva pure Bran Bran è figo Un draghetto Fang ancora di più Mitrax Dai è meglio così ragazzi È giusto livellare Beccando il morto Beccando il morto Chiaramente se non avessero Beccato il morto Non avremmo livellato Dai 6 8 Non sono neanche tanti Speriamo 6 Non 8 Sembra lo scenario Dove ne prendiamo 6 Perché il 4-2 Si schiando sul draghetto 6 down E doppia Triple 5 Let's go Do Vabbè Come si prende qua Mitrax Perché mononomi Mi puzza Prenderei Mitrax Venderei sti 3 Prenderei il Murloc Penso Anzi in realtà Non vendo proprio un bel niente Fermo così Ha vinto il bundle Celsius No Lore che caccio Perdiamo Perché lui è fortissimo Stiamo Stiamo trattenendo bene Wow Sono riuscito a pareggiare Un 2,9% Sì che purtroppo Celsius se n'è andato Non ci fa divertire Boh Boh ragazzi Sono così forti Che si potrebbe andare al 5 Penso Non lo so Cioè oddio Al 4 Ci potranno trovare Idra Vediamo le dragoli abbiamo Murloc elementi Solo Idra E abbiamo già lui comunque Andiamo su Do Ok Pone leggermente meglio di Cioè più forti di gatto Ovviamente Il punto E il punto è che l'unica tribe Che davvero serve qua È l'Idra Quindi rollerei Tonchi rollerei Per Idra Elementale 4,1 Boh Si poteva fare Si poteva comunque fare Però sapete che figata Potete trovare il jolly E triplare il fango Eccetera C'è anche Annikilan Si anche Annikilan Buono Nooo Eh qua si è stato Guardi Sto discammati noi Ci sta Parezziamo col fight Di prima Brava Troppo bello Però potrebbe andare bene Perché magari Becchiamo il morto Quindi in realtà Potrebbe essere Eh 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 Potrebbe essere Una figata Cosa che effettivamente è La coppia di bronze warden Si compra Puzza Però potrebbe essere Un discover Verso Mitrax Potremmo anche andare a 6 Forse è un po' Una follia Andare a 6 Siamo contro il morto Però ragazzi Possiamo trovare a 6 Mamma imp Non c'è niente A 6 Niente Niente a 6 Roll Mamma bear Trovo Hydra Decente Trovo Hydra Buono Va bene così Il turno è corretto Abbiamo sprecato gold Ho preso un Hydra gigante E mettiamo listi 12k su Su Quello è l'obiettivo Grazie mille Dennis Della sub Prende la coppia di Bran Manca Manca l'elemental Ma in realtà Un pochino Puzza Perché abbiamo bisogno Dello slot Per fare Gli adapt Qua C'è gli adapt Di Battlecry Niente Tazzino è il miglior pezzo Sul serio Purtroppo Faremo roll E uno swap Oddio non so se in realtà Swappiamo Cioè figo Se troviamo Cioè non penso di frizzare Tazzino Quindi in realtà È decente Sì dai ci sta Rischia di rubare i buff A Grounds Warden Se trovo il drago furiato Che è l'unico brutto Perché comunque 7-7 è un buon pezzo Ok Questo è buono Pompamitrax E Andiamo 5-5 Sì ma Puzzava la mamma Perché comunque avevamo il fango Avevamo il fango Quindi si rubava i buff Comunque Danny Speriamo di fare Questi 12k Però è ancora lunga la strada Ora siamo tornati a 11 La stiamo consolidando Speriamo di non avere Streak negative E Lei è molto forte comunque Bisogna fare attenzione Siamo forti anche noi però eh Però pure lei Non scherza Questo turno che abbiamo fatto È stato debole Beh Direi che sono sopra Mamma mia Ivera Che spettacolo Quando fa stick leave Anche se ovviamente Il top è rilevare la mamma Attaccando Il stauro l'isca Comunque una figata Per gli occhi Sbam Non muore Sono 13 danni Se hai un bel tazzone Quello sì che sarebbe figo Tazzino si compra Anche se non si swappa Questo non lo prenderebbe Perché comunque il taunt ci serve Allora Ecco questo È roba forte Assolutamente roba forte Stai davvero creando una grande armata Eh questa è roba forte Chissà quali segreti sveleremo Chissà quali segreti sveleremo Sfiga Non ho trovato Margaton Posso fare molte volte Per trovare Non si sa cosa Prenderei probabilmente Mexna Per L'endgame Finale E Argus Si frizza Why not Mette la bronze warden Argus è buono Secondo me Cioè chi sta a dare Argus A sti qua Può saltare anche il carceriere Così Fa schifo il carceriere Dai No Non gioco tazzina Tengo il murlock Il carceriere ha comunque Una stats in più Per il suo pezzo Regala che non se ne va a casa Merda ancora il morto Vabbè ma così che russo è Ma che è sta roba Non ho parole Cioè no Senso sta cosa Troppo forte Ok Direi che stiamo buoni Tanto sono contro il morto Perché non avevo un altro murlock Per attivare l'effetto del 3-2 Per quello che non l'ho swappato Non ho murlock ragazzi Sveglia Questo è offerto dalla casa Sì Argus va su sti due Anche perché ci sono i murlock Quindi non voglio che vada su il mitrax P тонn Ammetto che è goloso prenderlo quante stat sono? è 21 63 è un 3,63 è più forte di un 20,20? non credo non credo che lo sia rollerei onestamente si può trovare di meglio questo è inutile roll yes questo era quello che volevamo ok è perfetto non c'è bisogno di swapparlo spora no roll stazione yep allora salta il fango o il demone? fango pompa questi 3 probabilmente salta il demone così ho la certezza di buffare Hydra e il drago ora positioning salteranno in teoria adesso l'obiettivo troverà un altro Amalgadon fango è la prossima che salta ovviamente la brocca la swappiamo anche eh qua comincia ad essere interessante eventualmente anche un muro zonde per rubare Magadone cosa bella è che ho fatto anche i 3 giusti ma la nostra build è nettamente più sgrave e poi eventualmente se ci sentiamo a rischio di sconfitta possiamo piazzare alla fine una max coppia di Mitrax roll questo si roll facciamo lui basta trovare Amalgadon niente ha senso il jolly si che ci sta allora il più forte dovrebbe essere Zannuncino in teoria quindi potrei decidere anche di fare semplicemente la brocca non posso fare cioè mi ci vuole troppi turni fare swap di Amalgadon jolly su Amalgadon ne ricompro Amalgadon eccetera ci vuole troppo potrei mettere brocca e passare 19 vite non dovrebbe farmeli continuare a buffare sta board qua e poi piazzare alla fine contro Zannuncino Maxner eccetera potrei fare jolly anche su Maxner se non trovo di meglio e su apparla si è sbagliato a mettere il brocca contro bestie vabbè GG sono 12-15 danni quindi adesso affrontiamo Zannuncino che anche lei ha bestie quindi in realtà mettiamo Hydra davanti troviamo uno zap si può prendere quindi eh tripla di Coiler lasciamo stare non serve roll roll stats onestamente le farei anche a me non piaceva eccoti una moneta d'oro per il diritto roll questo è bene male per chiudere bait non serve la tripla teoria potevo far saltare Bran potevo tranquillamente far saltare Bran fare coppie di selfless era più forte vabbè 100-100 little JJ mamma mia mamma mia pooh ma outscaled totalmente vabbè easy peasy easy peasy Kaius qualche video che non puoi perderti tutti è anche quello che uscirà domani sempre il video che uscirà domani è quello che non ti puoi perdere